E chi non era fra i protagonisti quest'anno certamente non si perderà l'occasione per la prossima. Ancora una cosa vi debbo dire, Magic Summer 3D Camp 2013, il campo estivo per ragazzi da 9 a 18 anni che si terrà a Bosco Chiesa Nuova dopo 17 anni di esperienza in Trentino. L'evento presentato dall'assessore provinciale allo sport Pozzani consiste in un campo di basket e volley gestito da professionisti di fama nazionale Roberto Dallavecchia, per esempio storico capitano della scaligera basket a Verona, Matteo De Cecco, ex giocatore di A, attuale vice allenatore della Marmilanza. Il camp sarà diviso in due turni dal 23 al 29 di giugno, dal 30 giugno al 6 di luglio.